non ci avevo pensato diamo sto stop e facciamolo insieme vediamo che effetto fa guardate che meraviglia sembra proprio panna fa anche il becco a becco d'uccello come il bianco d'uovo vabbè sono molto contento così deve essere adesso lo copro mamma mia guardate che cos'è guardate che meraviglia bellissimo sono molto contento ok adesso metto la copertura e fra un'oretta la ridò un'altra passatina